pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati ho sentito nel cuore il desiderio di condividere con voi un piccolo pensiero per ogni giorno del triduo pasquale il sacro triduo si apre con il giovedì santo dove tra l'altro celebriamo l'istituzione dell'eucaristia nell'ultima cena quando ami qualcuno vuoi stare con chi ami e vuoi donarti a chi ami ecco mediante l'eucaristia gesù ha voluto lasciarci un segno visibile dove mostrarci il suo amore e dove comunicarci se stesso è il suo amore sino alla fine mentre gesù spezzava il pane e lo dava ai discepoli dicendo loro prendete mangiate questo è il mio corpo che è dato per voi mentre benediceva il calice e lo faceva passare tra i suoi mostrava come egli comprendesse la sua morte in croce come un atto d'amore come dono pieno di sé in ogni eucaristia miei cari noi prendiamo parte all'amore di gesù che vince la morte perché anche noi uniti a lui possiamo vivere così la nostra vita anche gli eventi più dolorosi anche l'ultima tappa della vita stessa come amore che si consegna vedete noi possiamo semplicemente subire le cose o accettarle supinamente oppure accoglierle e offrirle è l'amore che trasfigura tutto e allora anche l'evento più doloroso anche la malattia più logorante anche la relazione più difficile può diventare un luogo dove crescere nell'amore dove fare sempre più della propria vita un dono d'amore a dio e per gli altri e come segno del suo amore gesù ha voluto lavare i piedi ai discepoli questo venerando rito è compiuto dal sacerdote durante la messa quando lava i piedi a dodici persone uomini e donne per mostrare quanto gesù ha fatto per noi si è spogliato del suo splendore divino si è fatto nostro servo ci ha lavato e guarito i piedi sporchi e feriti liberandoci dal peccato perché potessimo accedere alla comunione con lui miei cari come aveva fatto pietro non opponiamo resistenza a quest'amore non temiamo di lasciarci perdonare confessando i nostri peccati nella confessione è un momento di liberazione e guarigione del cuore non temiamo di lasciarci amare dal signore lasciando permeare il suo amore anche nei nostri fallimenti nelle nostre debolezze anche laddove non ci sentiamo all'altezza lasciamoci amare da lui e a nostra volta impariamo da lui a lavarci piedi gli uni gli altri cioè a vivere per gli altri se stessimo inseguendo sogni effimeri se presi dalla sette di potere stessimo vivendo la nostra vocazione il ruolo che ricopriamo per metterci gli altri sotto i piedi se presi dalla superbia stessimo trattando gli altri con i piedi ricordiamoci qual è la vera grandezza che gesù ci ha mostrato lavare i piedi degli altri dare la nostra vita per gli altri solo l'amore che si fa servizio ci fa veramente beati iniziamo così questo triduo contemplando l'amore che si dona accogliendo l'amore che si dona ridecidendoci a vivere l'amore che si dona che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti